Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 Manager, signori, dopo il nostro primo Gran Premio torniamo con la nostra sportiveggiante, a grandi linee almeno di nome, sulla carta. Comunque, Brown ci dice, bene, il primo weekend di gara è terminato, complimenti, immagino che avrai già un'idea delle priorità della squadra in previsione della prossima gara, qui siamo tutti pronti ad accogliere i tuoi suggerimenti, fai un giro per la sede e decidi cosa cambiare. Ok, ok, ora che ti consiglio di analizzare il dettaglio dell'auto dobbiamo pianificare la progettazione, eh lo so, lo so, dopo ogni gara è bene confrontarsi con i piloti e le persone, potrebbe essere necessario aggiornare piani di sviluppo, eh noi al momento dobbiamo attendere un pochino perché stavamo migliorando già l'alettone posteriore che fa un po' cagare. Stavo pensando in realtà una cosa ragazzi, visto che comunque all'inizio non abbiamo, abbiamo una natura che fa cagare, dobbiamo comunque fare un attimino di lavoro su quello che è il reparto di sviluppo del veicolo. Stavo pensando di simulare le prime gare per aspettare l'arrivo dei primi componenti e rendere un po' più veloce questa fase iniziale dove all'inizio devi studiare un po' la macchina e cercare di mettere delle toppe a destra e a sinistra, ma poi all'atto pratico non è che possiamo fare miracoli. Vediamo un pochino, vediamo un pochino. Comunque, allora qui abbiamo aggiornamento sviluppo pilota, valutazione, va bene, andiamo un attimo ai piloti. È un piacere, non vedo l'ora di collaborare con te per questa stagione, ma poi... ok. Mantener un approccio ottimistico è cruciale, ma devo ammettere che avere un contratto aggiornato e un futuro con la squadra assicurato contribuisce non poco a preservare la mia mentalità positiva. Don tu orri e roli, va bene. Pilota affiliato, posso titulare nella sessione di prove? No, voglio affiliare. Ok, di crescita e termine la rapidità con cui migliora nel tempo la mentalità di un pilota. Ah, quindi, ok. Il pilota della squadra ha un ruolo, uno stipendio e un contratto di durata variabile. Ok, vabbè, per il momento direi che stiamo parati. Il rapporto è scarso, ma penso che debbano fare almeno un pochino di roba, no, insieme. Ciao, da qui, puoi consultare i nostri contratti, non trarre le nostre informazioni, sono ok. Ok, se vuoi che lavori su diverse aree di sviluppo durante le mie sessioni di simulazione di gara, nessun problema. Da qui puoi verificare chi è il mio ingegnere di gara, per noi pilota è fondamentale di instaurare un legame di reciproca fiducia con loro. Ci vuole, penso, un pochino. Se vuoi modificare la mia priorità di sviluppo? Sì, noi stiamo parlando comunque con piastri, ma c'è Berman. Berman, che c'è... Vabbè, comunque, comunicare liberamente, posso concentrare su qualsiasi aspetto, tu ritenga importante. Ok, priorità sviluppo, ulteriore... Eh, ok. Va bene, questi sono giovani, quindi. Eh, diciamo che... Aspetti che... Ok, aumenta un po' tutto. Situazione personale equilibrato. Risultati personali di gara, sa chi non gli è piaciuto. Team Principal è soddisfatto, anche se la prestazione e l'auto fanno un po' cagare. Allora, valutazione prestazionale. Vabbè, lui in realtà comunque è bravo. Parte la fluidità, devo dire la verità. Trasciato bagnato, strategia di gara, ritmo, run lunghi e equilibrato. Eh, forse potremmo puntare un attimino su questa, sulla fluidità. Eventualmente. Sterzata a fluidità, ok. Questo... Beh, pure questo, strategia di gara. Quindi o questo, o run lunghe. 83, 88, 84. Forse questo orpasso difesa riflessi. Direi quasi strategia di gara, vai. Che comunque migliora anche quello là che ci serve. Per questo, sala dei cimeli. Dettagli del contratto. 3 anni. Vabbè, penso che possa andar bene. Buono spiazzamento. Guarda, per il momento no. Facciamo così, gli abbiamo detto dove concentrarsi. Lui, stessa cosa. Andiamo a vedere. Lui anche un po' di previsione. Sorpasso, difesa, adattabilità. Qua forse equilibrato è ancora meglio. Perché almeno migliora un po' tutto. Mi sa che conviene. Gli affiliati sono questi qua. Piloti affiliati, probabilmente, provenienti dalle categorie inferiori. 21 anni e 20. Vabbè, praticamente sono più giovani. I nostri titolari. Allora, qua abbiamo risultati future race del Bahrain. Ok, il programma di addestramento andiamo a vedere. Allora, i meccanici sono una risorsa essenziale del team. La loro velocità e la loro affidabilità possono fare la differenza. Quando tornano in sede dopo le gare, si addestrano per migliorare in specifici ambiti. Se vuoi modificare il programma di addestramento della squadra, puoi personalizzare il piano attuale determinato l'attività giorno per giorno. Ricorda solo che il lavoro dei meccanici è molto fisico. E lo stesso vale per l'addestramento. Senza un'accurata pianificazione, posso accumulare stanchezza con il rischio che commettano errori nel weekend di gara. Quindi dobbiamo rimanere comunque qua, dai, l'affaticamento leggero. Così cosa stanno migliorando? Mozione pneumatici, 62. Installazione pneumatici. Tutto sommato ci sta, forse. Eh, però non so cosa cambia questo. Allenamento in palestra. Oddio, no, secondo me già va bene così, se devo essere onesto. Rimozione pneumatici non sono proprio prestanti, ma... Potrei metterli qualcosa in più con... Esercitazione sosta, equilibrata. Crick. Rimozione pneumatici. Così arriviamo a più tre. E linea teorica... Potrebbero... Non affaticarsi troppo, dai. Potrebbe andar bene. Tutte le modifiche probabilmente... Saranno rimanere... No, annulla. Confermo modifiche, scusa. Ok. Dopodiché, dicevamo, qui puoi consultare il nostro personale chiave. Le nostre priorità devono essere due. Assumere personale di talento e mantenere la mentalità del personale attuale a livello positivo. Una mentalità negativa può influire sulle prestazioni, quindi dobbiamo attivarci in tutti i modi per combatterla. Eh, lo so. Meccanici devono spesso aderire ad un intenso regime di addestramento. Va bene. Genere scouting. Allora, questa è al momento la mentalità è negativa, ma per il semplice fatto che... Eh, se vuoi indirizzare lo sviluppo di un membro delle persone puoi farlo da qui. Importante è il polso della mentalità dei membri delle persone, vale a dire il loro indice di soddisfazione, effetto positivo. Al momento è negativo per le prestazioni dell'auto. Il team principal. Prestazioni auto, altro personale, piloti e strutture. Non gli piace un cazzo a questo? Mentalità, sviluppo settimanale. Ma secondo me questi equilibramo. Che stanno così, secondo me equilibrato va bene. Negativo per... Strutture, piloti. Oh, però piano piano, insomma, ci organizziamo, dai. Non fate subito i rompicoglioni. Strutture. Ciao, responsabile strutture, piacere di averti con noi, ti aiuterò a gestire le strutture della squadra, gli effetti di pressione del magazzino componente, impiato dell'avanguarda, migliori prestazioni della squadra, io sarò sempre felice di costruire nuovi edifici, se lo vorrai. Ovviamente se ti... se i tempi e i costi lo permettono non impedisce di aggiornare le strutture esistenti per migliorarne la resa. In alcuni casi è necessario investire le strutture in pessime condizioni, interventi di questo tipo sono inevitabili, per cui lo stato degli edifici deve essere costantemente monitorato nel corso della stagione. Allora, la fabbrica sta messa bene. E questo aumenta la velocità dello sviluppo. Un'eventuale miglioria sono 11 milioni. Noi al momento abbiamo 35 milioni, però valutiamo un attimo. Centro di progettazione, simulatori, galleria del vento, sospensione, allora aspetta. Per il personale, hub squadra, attrattiva squadra, mentalità, personale e piloti. E sviluppo settimanale, parto scouting, non ci interessa, sviluppo settimanale, piloti. Questo quanto ci costa aggiornarlo? 2 milioni e 8. Aggiornalo. Hub di squadra, pure questo per 2 milioni e 2. Almeno stanno un po' più felici e contenti, quindi un pochino ci regoliamo su questo punto di vista. Calendario, come detto, potremmo aspettare l'arrivo delle prossime componentistiche. Periodo dei test aerodinamici iniziato, quindi in linea teorica poi si potrebbe fare dell'altro. Noi stiamo qua, scusa, andiamo un attimo avanti. No, però gli ingegneri stanno occupati, comunque, quindi. Non è competitiva in ambito efficace a DRS, eh, già l'abbiamo fatto comunque. miglior strategia per la cara, eh, in termini di strategia, aspettavamo di chiudere il 16, la nostra migliore... Allora, oggi la sessione dei test aerodinamici in un nuovo periodo di restrizione avrai un monte di ore come da allocare alla galleria del vento. Eh, sì. Eh, il problema è che non ho i... Allora... Di capo dell'aerodinamico, guidarti nella scelta e l'assetto, va bene. Aggiornare costantemente gli assemblaggi delle nostre auto... Va bene. Esaminati i pregi, i difetti, l'assenza... Ok. Allora, 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 diciamo che... Prestazioni auto 1 e 2, vabbè, stiamo... Stiamo sulla stessa barca. No, mi dovresti far vedere però i... La situazione... Aspetta, dobbiamo fare... L'alettone 14 giorni ci mancano, l'alettone posteriore. Poi lo dobbiamo produrre, lo stiamo a ricercare. Da qui possiamo progettare nuovi componenti per l'auto, ma anche produrre, installare su ciascuna monoposto. Allora, al momento, efficacia di RS e bassa velocità. Allora, l'alettone anteriore potremmo anche fare, ma c'è da dire anche che al momento... Non abbiamo... Ci proviamo, ma non credo si possa fare. Non decida quanto tempo assegnare al collaudo di questi componenti. Noi vogliamo sfruttare al massimo le ore disponibili, ma siamo vincolati ai limiti di tempo e al periodo. Ok. Vabbè, qualora tra 56 giorni, quindi qua converrebbe metterne tipo 56 giorni. Lo dividiamo per 3. 56 giorni, forse altri 3 pezzi si riescono a fare. Però, mo' stiamo a fare una prova, perché poi gli ingegneri non ce li abbiamo da metterci, eh. Possiamo andare... Questo ho aggiunto io che ho da ridurre le prestazioni. Va bene. Allora, noi potremmo fare il ciclo vitale anche un po' meno. Preset, va bene. Io lascio quello predefinito, perché non mi dispiace come cosa. Il fatto è che non abbiamo ingegneri. Però, c'è relativa al progetto, nel caso dovessimo accedere, possiamo assegnare altri ingegneri. Eh, ma noi ce n'era rimasto quanti? Come ingegneri disponibili? Ah no, 4 ce n'avevamo. Allora, si potrebbe anche fare. Poi finiranno il prossimo. Tra 34 giorni finisce questo. Beh, oddio, forse qualche oretta in più. Affrettato non conviene. Intensivo ci costa veramente troppo. 5 milioni e 4. Certo, poi è meglio per il prossimo, in realtà, come ci aveva detto. Migliora notevolmente. E secondo me l'alettone è uno di quelli che dovremmo migliorare tanto, poi. Che dite? Vogliamo provare questo? Io ho paura dei soldi. Proviamo. Vai. Ok. Come detto, andiamo un pochino avanti, signori. Facciamo un po' di simulazione di queste cose qui e capiamo cosa si può fare. Eh, vabbè. Noi... Siamo così così, eh. Però nel caso vedono un pochino pure loro cosa convenga fare. Obiettivi di gara. Della squadra, volevo discutere con te, obiettivi prestazionali. C'è un obiettivo di gara e rischi di ricompense. Obiettivi maggiori. Vabbè, ci proviamo. Questo l'avevamo visto l'altra volta. Quindi c'è diciannovesimo, diciassettesimo. Guarda, facciamo diciannovesimo. Andiamo sul sicuro, signori. Io non me la sento di... Ventunesimo. Eh, no, non lascia fare. Andiamoci coi piedi di piombo, signori. Se arrivano dei soldi, ben venga, eh. Però... Dai l'attenzione alle stelle. In vista del gran premio dell'Arabia Saudita. Vai, vai. Qua glielo facciamo fare a loro, così almeno, signori... Continua. Ma che me le fai fare a me? Ma scusa, mo... Che cazzo? L'altra volta me le ha fatte fare... Non lo so. Vabbè. 54... Componenti auto. Vabbè, per mo' vanno bene. L'assetto vediamo. Oddio, forse l'assetto possiamo lavorare noi. Ah no, ci sta, simula sessione. Proviamo. Così, come detto, aspettiamo almeno l'arrivo di un po' di componenti. Ci facciamo questa parte un po' più veloce iniziale. Mi fai vedere un attimo i risultati, però. Piastri sedicesimo. Berman. A livello di assetto state a fare qualcosa? Soddisfazione e assetto fanno... Cagare. Non lo posso modificare io, eh. Possiamo modificarlo dopo per le qualifiche. Qua, apparentemente, non me lo fa fare. Preparati di soddisfazione assetto. Ah no, da qua. Sto coglione io, scusate. Allora, beh, almeno gli do una mano... Cioè, se riesco a dargli una mano. Questo... Allora, vediamo un attimino perché ci stanno gli altri che fanno veramente cagare di brutto. Quindi dobbiamo andare a... Vestire parecchio questi. Allora, se vado così, dovrei poi ributtare questo più qua. Allora, già così rientrano nel sistema. Quindi, in teoria, già così dovrebbe andare meglio del 30% nella soddisfazione assetto. Provo a fare qualcosina sull'assetto, signori. Cazzo, questo è perfetto e va bene, però gli altri... Allora, l'ala posteriore perché dobbiamo rientrare in quello, assolutamente. Poi lo rientriamo nel perfetto, ma ci manca quello lì che... Ce lo perdiamo un po'. Questi riusciamo a ritornarci, ma non mi piace la trazione. Così, però... Ci perdiamo un po' di sovrasterza. Eh, guadagniamo in questi tre. In questo un pochino perdiamo, in questo è rimasto... Faccio così. Potrebbe, potrebbe... Per mantenere questo perfetto e questi rientrano almeno nel loro. Proviamo. Lui come stava messo con l'assetto? 31%. Va bene. Simula pure le prove tre. E vediamo l'assetto come va. Benvenuti, siamo alle... Vai, vai. Eh, come detto, facciamo un po' più veloce, signori che... Assetto siamo arrivati 42 e 40, ma perché non l'hanno provato bene? Ma come me l'ha sputtanato completamente? Ma non è possibile. Se mi davi quella traccia, come fa ad essere arrivato così adesso? Questo chi l'ha messo qua? Io l'avevo messo sul... No, aspetta, era quell'altro. Fammi vedere però se me l'ha mantenuto. No, me l'ha cambiato pure lui. Io l'avevo messo qua. Cazzo. Imbecilli. Mo che cazzo ne so che avevo messo. Però non se fa così, signori. Non si va così. Mi hanno sbragato tutto l'assetto. Vabbè. Vabbè, penso e spero che sia meglio del 42 di prima. Proprio questo è tutto... Allora, l'ala posteriore. Magari una tacchetta qua per vedere come può reagire. Questo prima di ributtarlo là. E' un problema. Ok. Ok. Proviamo. Vediamo un attimo che riescono a combinare. Se almeno Piastri arriva in Q2. Bravissimi. Però, ti dirò, eh. Poteva andare peggio. Qui sul circuito... Allora. C'è lo sereno l'assetto. 42, 42. Niente. Me l'hanno ricambiato. Ma non lo posso neanche cambiare. Vabbè, però se la cercano, signori. Cioè, obiettivamente parlando. Se io te lo metto in un modo e tu poi me lo risputtani. Ma io l'avevo salvato, no? L'assetto. Sì, perché era non testato. Per forza. Io ho idea che ci sia qualcuno che magheggia, eh. A meno che non mi so perso io qualcosa sotto gli occhi. Tutto può essere, eh. Ci sono parecchie informazioni. È stata una giornata terribile per Oscar Piastri. Bene. Probabilmente nessuno si aspettava di non vedere il suo nome tra i primi dieci. In futuro può e deve fare meglio, questo è certo. Se è arrivato un dicesimo, va benissimo. Max Verstappen può aggiungere un altro podio. Verstappen, Norris e Carlos. Dai, andiamo a vedere i risultati per noi. Sono diciottesimo e diciannovesimo. Quindi uno l'abbiamo beccato, l'altro no. Insomma, insomma. Abbassamento dell'errore sosta in box. Diciannovesimo migliore. Ah no, diciottesimo ce l'ho fatta. Attenzione. Sono soldi. Eh, però non mi piace sta cosa dell'assetto. Abbiate pazienza. Eh, scusate, perché che stiamo a fare noi qua? La nostra auto non è competitiva. Eh, lo so, ci stiamo lavorando. Eh, ci stiamo lavorando. Ma io che ti devo dire? Se non arrivano i pezzi, non è che possiamo fare miracoli. Attenzione. Piacere con noi è il ruolo di capo dell'aerrore... Ma piacere di con noi ci siamo conosciuti diciotto volte fino ad oggi. Da qui possiamo progettare nuovi componenti e questo lo sapevamo. Ma me lo ridici ogni volta? Mi sa che lo devo schipparlo il tutorial. Allora, qual è il problema qua? Determini il numero di gare che poi... Va bene. Va bene. Rischio medio. Ispezione. Rischio di ispezione. Vabbè. Non mi sembra il caso di cambiare pezzi al momento. Poi... Fammi vedere un attimo, credo, eh. Perché mi sta segnalando questa cosa. Gruppo propulsore. Danni lievi. Eh, vabbè, te lo tieni. Non è che ne abbiamo in quantità, eh. Il magazzino uno. C'è due in totale. Quindi questi ci sono durati tutto il mondiale. Belli. Non so che avete le idee confuse, ma... Lo tenete. Bravo. Lui ha livellato. Nel mentre, fatemi vedere un attimo lato calendario quando è che arrivano i pezzi. In teoria qua. Poi li dobbiamo comunque costruire. Però almeno un progetto finisce. Ok. Progetto completato. Andiamo alla produzione. A P2. Alettone posteriore. Abbiamo questo nuovo progetto che è un po' meglio dell'altro. Di questo ne abbiamo sei, quindi magari li usiamo nelle prove libere. Data di completamento? Tre giorni. Fammene quattro. Dodici giorni, però nel mentre comunque dovrebbero arrivare. So comunque un milione e cento, eh. Quindi non ne facciamo troppi. Però almeno uno di scorta si potrebbe anche fare una cosa, in realtà. Si potrebbe produrli per un'unica auto e poi aspettare il prossimo step di miglioramento. Facciamo così. Uno per tutte e due, uno di scorta. Poi se rompe pure quell'altro. Facciamo così. Nove giorni. Va bene. Qualcuno dovrebbe già arrivare un pochino prima. Perché a livello di calendario. Uno, due, tre. Arriva il primo pezzo. Qua arriva il secondo, ma non lo possiamo mettere in gara. E poi la prossima... Qua finiamo l'altro progetto. Eh, quanti ce ne dobbiamo schippare di... Insomma, 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 insomma. Vabbè. Allora, andiamo ai veicoli. Auto uno. Eh, aerodinamica. Alettone posteriore. Scambia con questo. Installa sull'auto uno. Darà un aiuto? Probabilmente no. La nostra auto si troverà in difficoltà a causa delle scarse... Lo so, ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando, signori. Vabbè, ora avete pure rotto tre quarti. Va bene tutto, però. Andiamo noi. Andiamo a sbagliare noi sulla fiducia. Facciamoci pure quest'altro Grand Prix, perché poi non lo facciamo noi in realtà. Ora però voglio capire... E' bello tornare agli... L'assetto. L'assetto lo voglio un attimo capire. Perché? Vabbè, il primo coso lo fate voi. Componenti auto danneggiati. L'herz. Te lo tieni. Dobbiamo farci un po' di... Spazio. Simulo una prova alla volta perché io voglio capire questa cosa dell'assetto. Perché se no è un grosso problema. È un grosso problema. Assetto auto 49. Facciamo così. Alla prossima non gli dico niente. Fate voi 49. Perché magari do fastidio a quelli che stanno lavorando sull'auto. Tutto può essere. 57, 58. Io lo cambio per la qualifica. Questi poi non lo posso ricambiare più. Poi non è vero perché me lo cambiano uguale sotto il naso. Q1, 63, 65. Quindi non è ottimale. Soprattutto il sovrasterzo è una roba imbarazzante. Allora cerchiamo di rientrare nei rettilinei. Questo va bene. Però se poi ci andiamo a sfruttare questo per rispostarlo qui dentro. Ok. Ora. Con. Un po' di convergenza. No? Stiamo un po' più apparati? Stiamo tirando. Così. Cioè in linea teorica. Non testato. Ma lo tiene. Io non credo che ce lo tenga. Però va bene. Questo trazione proprio gliel'hanno buttata a caso. La trazione a lui eh. Allora aspetta che non mi ricordo. Dobbiamo sempre andare a vedere quello che ti cambia più un parametro e meno gli altri eh. Perché poi. Eh qua. L'ala che. Aspetta che non facciamo così e poi ributtiamo quello. No. Questo va dall'altro lato. Allora. Sembra di mettere qua per forza. Questo così. Questo così. Questo non è più perfetto ma non... Va bene. Tanto poi comunque rifanno come gli pare a loro. Vedete che poi li ritroviamo tutti sballati. Ve lo dico io. 17 e 19. Va bene. Regolare. Cambiamo questo assettino. 63 e 65. L'avete rimesso come prima. Sì. Quindi le qualifiche ce le dobbiamo fa' noi dai. Io ti posso cambiare al massimo l'inclinazione dell'ala che comunque... Qualcosina della raddrizza un po'. Eh. E io ci metto mano comunque. Guarda qua. L'hanno rimesso esattamente come prima. Stessa strategia. Fanno fermare strategia D. Strategia D. L'importante è che non entrano allo stesso giro. Vabbè. Si organizzano nel senso. Mi potresti provare una strategia alternativa. con Berman. Ah no. A lui gli mettono la strategia degli stronzi. Però lo fanno spingere tanto con le dure. Queste dure qua non mi piacciono. Se metti le... Le medie... Dove cazzo stanno le medie? Ho girato tutto. Ah non ha più le medie lui. Ecco perché le ha consumate. Mmm. Eh per forza allora. Per forza. Per forza così. E' ancora più cattivo qua nel finale. Eh si evidentemente ha consumato. Non ha più... Non ha più pneumatici. Va bene. Vediamo signori se riescono almeno ad arrivare al nostro obiettivo. Incrociamo le dita e speriamo bene. Ed è Oscar Piastri. Dopo una gara impegnativa per tutti. Oggi rimane fuori dalla zona punti con appena una P12. Ehi. Oh. Vi sicuro i tattosi di Vestap. È che stanno a scherzare l'AP12. Può festeggiare la sua terza vittoria in stagione. Segno del suo buono stato di forma. Infatti gli altri sono proprio entusiasti qui sul podio. Oh una P12 signori. Clamoroso. Dov'è? Dov'è? Eccolo lì Oscar. Grandissimo. Cinque sorpassi. Burman ventesimo. Ma perché gli ultimi due si sono ritirati. Non per altro. Più due giri. Ah. Ti dirò. Interessante. Però. Va bene. Va bene. E per il momento signori conviene fare questa. Almeno arriva un po' di roba. Aggiornamento completato. Simulatore di gara. Vai alla struttura. Almeno livellano anche questi. Il ruolo di responsabile di struttura per gestire la struttura. Già l'abbiamo fatto questo. Murphy. Attenzione. Valutazione prestazionale. Ma tanto è sempre incazzato. Quindi. Allora. Il simulatore di gara. Come detto. Sviluppo settimana alle piloti. E adesso. Se lo aggiorniamo ci costa un po' troppo. Quindi aspetterei. Incrementa fiducia prestazioni. Attrattiva squadra. Punto di accoglienza. Sviluppo auto. Questi costano un fottio. 10 milioni. Abbiamo 25 adesso. Non mi vorrei. Giocare troppo le strutture. Lo so. L'efficacia del DRS. Lo so. Lo so. Ma che te devo di. Costo mensile aumentato. Aspettate che mi ricordo che c'era una struttura. Che invece. Centro visite ti faceva guadagnare soldi. Sì. Allora. Centomila. Reddito settimanale. Passiamo 87 mila. Sì. Perché questo pian pianino ti fa. So. Comunque soldi. Per carità. Ce ne spendi per farlo. Ma non tantissimi. Allora. Qua. Arriva. Ok. Vai componenti. Oddio. Più che andare nei componenti. Dovresti andare direttamente. Basta. Oscar Piastri. Prestazione auto. Però c'è del rosso. Perché l'alettone posteriore. Non superata. Scambia con. Questa. Installa sull'auto 2. E onestamente. Questo rischio elevato. Scambia l'alettone. Non l'ha fatto. Installato 2. No. Non me lo devi in realtà scambiare. Ma mi devi mettere direttamente. L'alettone. Capita. A livello di calendario. Stiamo aspettando. Piano sponsor. Allora. 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 Io però. A questo punto. Sarei quasi. Cioè. Inutile. Che cambio. L'assetto. Quando fanno loro. No. Tanto. Che lo cambio a fase. E poi me lo risputano. Loro. Mi sembra molto strana. Come cosa. Se devo dire la verità. però. 84. 84. Ok. Stanno migliorando. Stanno migliorando. In quel che ci serve. Va bene. Programma addestramento. Allora. Rilascio auto. State messi un po' maluccio. Allora. Allenamento palestra. Se mi fa invece. Rilascio auto. Almeno stiamo in pari. Rilascio auto. Dai. Facciamo così. Probabilità errore. Più 17,84. Quando sta qua. Credo. Ma stanno affaticati. Dite. Però non hanno sbagliato. Devo dire la verità. L'ultima volta. Sempre le stesse cose. Va bene. Vediamo il piano sponsor. Vamos. Affaticano ancora di più. Attività coinvolgente. 4.500. Obiettivo raggiunto. Un po' di più. Fondi. 2.100.000. E 100. Va bene. Attività obbligatorie. Nessuna. No. Allora. Il coinvolgimento. 2.000. Il coinvolgimento. Dobbiamo arrivare almeno lì. Per ottenere. La moneta. Allora. Efficacia struttura. Diminuisce un po'. Però gli da un bel bustino. Qua. Io non vorrei rompere. I coglioni. I piloti. Onestamente. Attività personale. Valutazione. Prestazione personale. Tour scolastico. Dimensione squadra scout. Diminuisce. Va bene. Tanto noi non ci interessano. Facciamo pure questo. Giorno in fabbrica. Pubblicità galleria del vento. Efficacia della struttura un po' meno. Centro meteorologico. Vai. E purtroppo ci dobbiamo spammare tanto signori. Mi sa che piloti comunque qualcosa da devono fare. Valutazione. Prestazione. 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 Giorno di gara. Extra gara. Magari. Indice di sviluppo e mentalità pilota. Evento promozionale. Ah sì. Per questo. Sì. Tanto è l'affiliato. Ok. Conferma. Allora. Dai facciamoci un altro weekendino. Dai veloce veloce. Posto importante. Va bene. Prestazione l'auto. Lo so che è una merda. Ma devo aspettare che arrivino altre componentistiche. Purtroppo questa è. Non me la posso rischiare comunque. Perché. Preferiamo. Del solido. Ma basso. Guadagno rispetto alle sbruffone. Per quanto. Poi piastri. Ci ha meravigliato tantissimo. Nell'altro. Allora. Io non vado a fare. Gli assetti. A questo punto. Simula fino a. Qualifiche. Giusto per capire. Un attimino. Come stanno messi con l'assetto. Tanto. Io lo metto io. Me lo cambiano. Sotto il naso. Poi alla prossima. Torniamo in pista. Non vi preoccupate. Signori. Però per forza di cose. Qua. 62. 64. Ma proprio le basi. Guarda la. Rettiline. Ma basta che fai un attimino. Un tacco punta. Così. Poi ci aggiusti. Un attimo. Questo. Poi rispari. Un attimo. Questo qua. Questo te lo. Riputti. Questo non lo ti tocca più. E' effettivamente lì c'è un problema. E' effettivamente lì c'è un problema. Sto. Sì. Sta un po' più bilanciato. Ma tanto comunque. 64. Lasciamo così. Giusto per capire se poi aumenta qualcosina. Anche se qua poi una volta che scendi non è che puoi modificare niente. Qualifiche due. Si sono qualificati quindi. Vedi l'alettoncino posteriore. A meno che non ho capito male io. Tredicesimo. E quell'altro. Do cazzo sta. Scusa. Piastri tredicesimo. Ah. Era già cacciato. Ma non me l'aveva detto. Piastri però sta spinge eh. Solo per l'alettoncino che gli abbiamo cambiato. Oh. Oh. Pioggia moderata. Ah no. Io qua non ci metto bocca. E che ne so quando arriva la pioggia. Questo poi lo dovete vedere in pista. Si presume che arrivi alla fine. Eh. Io non ti posso dire niente. Perché lui le mette molto prima e lui si attacca a cazzo? Per poi spingere tanto. O non è per sfiducia. Però se questa è la situazione. Tu a questo punto non mi puoi fare così. Mi dovresti fare. Qualche giro in meno con quelle. E magari me le spingi pure un pochino di. Ah. Ah. Proprio le disintegra le gomme. Ok. E arrivi così. E all'atto pratico è molto simile a questa. Trenta. Tattacin. Questo si ferma anche un po' prima in realtà. Vabbè. Faranno loro comunque. L'abbiamo portato a 62. No. L'ha rimesso lui a 62. Simula va. Fammi vedere che combinano nel finale. Attenzione. Sempre dita incrociate. Vediamo in Giappone che combinano. Meteo permettendo. Alex Albon rientra in garage. No. Proprio non ci siamo. Un quattordicesimo posto. Zero punti e molto lavoro da fare direi. Vabbè. Mica tutti possono andare a punti. Stanno a congratulare. Giustamente la Williams. Verstappen va a vincere l'altra gara. Ci mancherebbe altro. Madonna. Piastri undicesimo. Attenzione. Burman. Non è arrivato. Bene. Quindi ha spaccato qualcosa. Bene così. Beh. Beh. Oddio. In realtà non ci dice niente. Dovrebbe dircelo. Ventunesimo. Vabbè. Credo che ce l'ha dato forfettario. Però. Tutto sommato. Allora. Ci ha aggiornato anche questo. Va benissimo. Progetto completato a lettone anteriore. Andiamo alla produzione. Almeno un 3. 11 giorni. Conferma. Oh. È migliorato. Bravissimo. Aggiornamento centro visite. Andiamo alla struttura. Perché il centro visite. Ti direi quasi che. Vedi. Ci investiamo. Per aggiornarlo. 68.000. Ma guadagniamo. 5.000 in più. Beh. 5.000 in più. A settimana. Quindi. Va bene. Ce lo ripaghiamo. In qualche. Desetto. Va bene. Allora. Questo chi è che richiede una risposta. In gara. Faticato a causa delle prestazioni di alta velocità. Alettone anteriore non supera. Di seguito è possibile consultare i rapporti in dettaglio. Telaio distrutto. Scatola del cambio sta al 13%. Che cazzo ci fanno con sta macchina? Ma 4 gran premi abbiamo fatto. Vabbè. La formula 1 richiede modifiche tecniche. Attenzione. Le variazioni normative in oggetto sono pensate per incidere sulla deportanza generale delle auto. L'intenzione è incrementare la velocità di percorrenza delle curve. Prima del voto come sempre siete pregati di prendere visione del riepilogo tecnico in allegato. Quindi. Diciamo che se. Oggetto modifica deportanza. Eh però mi devi far vedere. Ah o la deportanza ad alta velocità o a bassa velocità. La lettone anteriore funziona almeno 30. Ok l'alettone posteriore. Perdono più qua. Però. Si potrebbe anche dire che. Visto che a noi già fanno cacare ad alta velocità. Cambiamo. Bassa velocità. No poi perdiamo lì dove. Vabbè a noi fa cacare in tutto. Meno 10%. Meno 20. Qua è di più. Votiamo. Votate votate votate. Va bene. I nostri ingerini hanno appena ultimato i lavori però ok. L'abbiamo. Si già sta. Già stanno producendo. Andiamo a vedere sul calendario. Dovrebbe arrivare. Prima del prossimo gran premio. Qua che succede. Periodo di ricerca iniziato. Esito del voto. Arriva pure il terzo alettone. E poi magari in Cina. Se può fa. Buon i nuovi alettoni lì. Spendendo il numero. Progetti per telaio. Prodotti. Componente attuale installato sull'auto 1. Contrattempi durante 2. Potremmo rimanere sprovvisti. Scusa ma. Allora fammi vedere una cosa. L'alettone anteriore. Vabbè. Uno l'abbiamo già. Fatto questo nuovo. E lo installiamo sull'auto 1. Perfetto. Poi. Il telaio che mi diceva. Ah è perché di telai ne abbiamo 3. E probabilmente quest'altro. Avendolo già sfondato. Il telaio. In magazzino ce ne abbiamo 2 però. No in magazzino ce ne è rimasto 1. Va bene. Se poi lo sfondano tutte e due il telaio lo produciamo d'urgenza. Questo non superato. Sale il ricambio. Sospensioni non superate. Sospensioni non superate. E quindi in magazzino abbiamo una sospensione. Eccomi di andare direttamente in magazzino e vediamo. Telai. 3 in totale. Alettoni. Ok. Posteriori ce ne abbiamo abbastanza. Sospensioni. Stiamo un po' così. Quantità 8. Quantità 4. Non lo trattano benissimo il motore. L'herz soprattutto l'auto 2. Che non era l'herz quello che aveva scassato coso. No il cambio. Il cambio. Era rotto. 13%. Ha proprio sfonnato. Vabbè non arriviamo a fine anno però. Va bene. C'è nel senso. Allora. Mi hanno appena riferito che potremmo anticipare la consegna dei lavori di aggiornamento dell'area centro video. Un diverso vettore per la consegna dei materiali. Oddio. Dal 24 al 20 dobbiamo pagare 40. Ma no non fa niente. Per 4 giorni dobbiamo pagare 40.000 euro. Allora. Vediamo. Votazione delle squadre su questa modifica. Voto favorevole. Il nostro era contrario. Insieme alla AS e alla Red Bull. E alla Ferrari come detto. Quindi passa il voto. Effetti la tua risposta. Nessun effetto. In form... Modifichate. Abbiamo ricevuto i risultati. Secondo qui la maggior parte delle squadre si è dichiarata a favore. Le relative norme saranno introdotte a partire la prossima stagione. Noi volevamo... 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 Produzione completata. Perfetto. Allora fermiamoci qui perché dobbiamo andare a mettere l'alettone anteriore anche al buon... Tre ne abbiamo fatti eh. Vabbè signori se riusciamo a fare un po' di boost va bene. Ma nel mentre scusa. Giusto per capire un attimo la situazione. Ricerche per l'anno prossimo. Conviene? In teoria si però. Mi dovresti far vedere però a livello... Mi dà fastidio il fatto che non mi fa vedere. Livello prestazione... Prestazioni auto 1. Ok. Una volta... Cazzo era... No. Sempre queste dobbiamo migliorare. Velocità massima. Raffreddamento... Media e bassa velocità sterzata è questo. Sempre l'alettone. Anche un po' il telaio in realtà eh. Pance laterali prendono un po' tutto. Vai con le pance laterali va. Quante ore ci sono rimaste? Abbastanza. Si rinnovano tra poco quindi... Valle a usare tutte. Perfetto. Equilibrato mi va bene. Sì. Ingegneri mettimici quelle che ci sono rimasti. E magari possiamo fare con calma quanto ci viene... Allora normale... 1, 1,5... 3 milioni. Però poi le pance successive... Insomma sempre... Va bene. Va bene. Live di spesa restante 49 milioni. Ci può stare. Ci può stare. Qualora io andassi a fare qualcosa nella ricerca. Per dire. Ah no. Comunque va a prendere queste. Perché la ricerca... Come ho detto... Va bene dai. Va bene così. Allora signori. Direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di... Formula 1 Manager. Ci vedremo in Cina. Vediamo ancora se simulare ancora o... Per qualche altro gran premio per... Smistare un pochino la situazione. Non lo so. Vediamo. Fatemi sapere anche la vostra. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando come sempre. Seguitevi sull'altro episodio per il live. Il secondo canale Instagram. Alla prossima cari. Saluto a tutti da Quel Taleale. Saluto a tutti.